Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 26 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e Fuzimib. Iniziamo dal DAX. Allora, stiamo andando in chiusura del primo T-2, 1 e 2, e stiamo già vedendo che effettivamente è una chiusura forte, nel senso che siamo andati persino a riprenderci il gap up con cui avevamo aperto la giornata di ieri. Questo significa che abbiamo un ritracciamento già parecchio interessante e stiamo iniziando quindi a perdere forza. Oltretutto abbiamo già la condizione per almeno far partire un T settimanale da qua e come vedete siamo andati per ora, anche soltanto fino alla chiusura di ieri, a oltre ci siamo avvicinati molto al 78% di ritracciamento, 78,6. Questo significa appunto che sta iniziando a perdere parecchia forza il nostro indice. Se non recupereremo rapidamente la media mobile a 50 periodi, dopo l'apertura, ovvio per far partire un secondo T-2 oppure anche soltanto un T-3, se andremo a tre tempi, inizieremo ad avere grossi problemi perché abbiamo bucato anche l'accumo. E quindi se vogliamo vederla a livello di candele giornaliere, vi faccio notare innanzitutto una cosa. Il primo T-3 su DAX è durato 58 bar. Il successivo è già 52, mancano 6 giorni ad arrivare alla stessa identica durata e quindi ci sta una chiusura di T-4 da fare. E quella di T-4 chiede un T-1 ribassista, capite? Il discorso è molto semplice. Se qui andiamo a completare un T-2 mensile con un 24 giorni minimi, e siamo già a 18, ne mancano altri 6, li aggiungiamo qui a questo T e se andremo anche sotto a questo livello qua, andremo ad avere proprio quello che ci serviva, ovvero un T-1 ribassista perché T-1 è iniziato qui. E potremo appassino avere un T-2 ribassista corto da 24 giorni se andremo qua sotto e se torneremo appunto sul livello della media mobile. Questo per dire che è importante seguire il trend principale che è Rialzo e fare attenzione a chi vi dice che si scenderà fortissimamente da un po' di tempo su TradingView. C'è ancora tanta gente divertente che parla di lune e di altre cose che adesso viene presa in giro sulla chat. E' bom, attenzione perché si può, mi aspetto più che altro come al solito una difesa forte e rapida per poi rivedere eventualmente una bella risalita e una ripresa del trend. Attenzione in questo momento alle posizioni long, a questo punto arrivati già molto vicini alla durata del precedente T-3 trimestrale, ecco, calma e gesso, d'accordo? Per cui facciamo attenzione soprattutto a swing e volumi, il rischio è che lo facciano durante una serata in cui uno si aspetta magari alzo. Vi faccio notare che tra l'altro questa è un inverted hammer, una shooting star che ci dice che per oggi potremmo avere appunto discesa. E discesa sarà se il terzo T-3 non lancerà un secondo T-1 o lo lancerà con poca forza e proseguiremo a scendere perché guardate che qui è possibile che con la rottura peraltro della media mobile a 50 periodi della Kumo si provi a continuare a spingere verso il basso. Su DAX che cosa abbiamo? Situazione molto simile, qui siamo andati ben oltre il 78% di ritracciamento e la chiusura del gap up della mattina e del tentativo successivo appunto di aggiornare i massimi. Per cui anche in questo caso, attenzione, siamo già a metà della Kumo, oltretutto. E se continueremo ad andare verso questo livello prima dell'apertura, anzi prima della partenza del terzo T-3, ecco, stiamo perdendo particolarmente smalto, forza, i volumi ci spingeranno, come è successo nella seconda parte della giornata, pesantemente verso basso. Quindi attenzione perché la condizione minima per la partenza, anche in questo caso, di un T settimanale ce l'abbiamo. Il terzo T settimanale è dato per partito da qua, ok? Dopo questo. E anche in questo caso, lo misuro per sicurezza, siamo a 17 giorni su minimo 24. Se aggiungo 7 giorni arrivo a 24, se aggiungo al terzo T 7 giorni arrivo a 9 giorni, ci sta pienamente per arrivare agli 11 giorni. E se si arrivasse appunto anche soltanto sotto questo livello qui, ok, avremmo la condizione, anzi in realtà no, avremmo già sotto i 19480, avremmo già la condizione per la chiusura del T più 4, e anche in questo caso siamo a 9 giorni di distanza dal precedente. Questo tra l'altro non vuol dire nulla, perché un T più 4 può durare anche tranquillamente attorno ai 100 giorni, ok? Però mi guardo a che livello siamo e faccio attenzione, sono più prudente con i long. Oltretutto guardo sempre a che livello siamo. Io vi dicevo che si poteva ritornare verso la media mobile a 200 periodi. Ci abbiamo approvato, attenzione perché adesso può partire oltretutto un nuovo T inverso. Il secondo T inverso di questo T più 1 inverso. Prima candela, minimo seconda candela e poi si vede che cosa succede, ok? Quindi per oggi fate attenzione i long, vedete che forza avrà il terzo T meno 3, e in violazione del minimo da cui parte, valutate eventualmente short, ok? Anche perché se saranno altri tempi andremo in chiusura del primo T meno 1. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi ringrazio perché stiamo crescendo tanto di nuovo come numeri. Siamo oltre 730 persone in una community estremamente tecnica che parla di trading, senza fronzoli, senza stupidaggini, domande strane, eccetera. Per cui, per qualsiasi domanda, sapete che c'è il mio... ci sono due gruppi Facebook che coordino. Uno su cui potete fare tutte le domande che volete sulla ciclica voluta, il secondo per approfondire e per decidere di diventare voi la persona che si emancipa e che può fare questo genere di analisi e guadagnare quello che c'è da guadagnare. Buona giornata a tutti. Per me sarà una splendida giornata perché ho deciso così e perché con questa vista mare non potrà essere altrimenti. Arrivederci.